Ci sono degli esseri umani che arrivano dalla Libia ma sono nati in realtà in Somalia, Eritrea, Ghana, Nigeria, Mali e ancora altri paesi che per questo motivo rischiano di vedere rigettata la loro domanda d'asilo dalle commissioni territoriali. Tu hai firmato a tal proposito una petizione lanciata da Melting Pot per il rilascio di un titolo di soggiorno ai richiedenti asilo provenienti dalla Libia. Una volta le persone che si ritenevano di sinistra non facevano molta differenza tra un elettrauto italiano, un elettrauto giapponese o somano. Quello lì era un elettrauto, è una persona che vive nel suo territorio o nel mio territorio ma è un essere umano. Casomani le differenze si facevano tra classi dominanti e classi dominate. Io la vedo ancora un po' così, per cui per me quello lì è più vicino a me di quanto non sia vicino a me il mio Presidente del Consiglio. Per cui io toglierei il permesso di soggiorno a Monti più che a un somano che è passato dalla Libia e che comunque in Somalia non è che avviene una condizione migliore di quella che si è in Libia, perché è un paese se possibile anche molto più devastato. Per questo motivo, perché questa emergenza legata agli stranieri è una gran cazzata, una cosa che funziona benissimo insomma, però è inventata. È inventata come quando ti dicono che battere il piede così è una malattia, quindi tu prendi un farmaco per smettere di battere il piede. O anzi ancora di più, è un po' come il caso dei tarantolati nel Salento. Adesso per me è un fenomeno che è stato completamente risocchiato dall'industria culturale, però insomma come funzionava? Soprattutto le donne, più o meno nel periodo dell'adolescenza venivano morsi da questa taranta e ogni anno risentivano il morso, quindi ogni anno vivevano questa sorta di avvelenamento che doveva essere curato con la musica, con i colori, con la danza e ogni anno guarivano. Allora che ci fosse un disagio vero, è vero, erano donne in una situazione culturalmente insomma difficile che vivevano quindi questo disagio, questo disagio non era una malattia, non era una cosa evidente come un taglio, un braccio rotto, quindi doveva essere evidenziato attraverso una malattia inventata. E la cosa geniale è che la cura funzionava sempre, è perché la malattia non c'era insomma. Per cui queste persone non avevano bisogno di una cura nel senso come lo pensiamo noi, ma avevano bisogno che qualcuno si prendesse cura di loro, che diventasse per un attimo qualcosa di importante e rilevante. Al contrario, in maniera criminale, quello che hanno fatto in questi ultimi anni insomma i partiti, i loro rappresentanti, ci hanno fatto credere che noi avevamo dei problemi e di tanto in tanto questi problemi ce li hanno risolti. Quindi, ah, emergenza, arrivano miliardi di stranieri in nostro paese, non sappiamo dove metto. Poi, da giù all'altro questa cosa si risolve. Dei stranieri in Italia ce ne stanno molti meno che noi in Germania, in Francia, in Gran Bretagna. Eppure loro questi problemi ce l'hanno e anche lì ci stanno delle porcherie evidenti. Però, insomma, da noi i problemi sono molti meno che non da loro. Anche perché, peraltro, molti immigrati tendono a utilizzare l'Italia come un'autostrada per arrivare in un altro paese, insomma, visto come vengono trattati immediatamente. E poi perché? Ci ha detto l'Istat pochi mesi fa che tra 50 anni un italiano su quattro proverrà da una storia di immigrazione. Allora, visto che appunto nelle nostre carceri il 40% dei detenuti sono immigrati, noi che facciamo? Tra 50 anni mettiamo il 40% dei immigrati ancora in carcere. Quanti ce ne mettiamo? 2 milioni, 3 milioni, 5 milioni, 10 milioni? È un appello che si conclude con tre parole bellissime. Una questione di dignità, democrazia e giustizia. A tal proposito ti voglio chiedere questo. In Italia c'è stata una classifica sulle libertà di informazione e siamo al 75esimo posto. Poi c'è stata la classifica della trasparenza e dell'anticorruzione e siamo al 69esimo posto. Due giorni fa la Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia, proprio perché il 6 maggio 2009 a 35 miglia dal sud di Lampedusa sono stati respinti e raccompagnati in Libia contro la propria volontà e senza nemmeno identificarli e capire se c'erano anche questioni di asilo politico. Sono stati respinti e riportati in Libia ed è stato per questo motivo condannato. Ora, alla luce del fatto che per entrare in Europa sono richiesti anche dei parametri di democrazia rispetto ai diritti umani previsti proprio dall'articolo 6 del Trattato dell'Unione Europea. L'Italia è un paese che fa parte dell'Unione Europea? Purtroppo l'Unione Europea è molto debole rispetto a tutto quello che li ruota attorno. Quindi torno sul discorso del capitalismo e del mercato, della finanza, insomma. Per cui questa debolezza è una debolezza soprattutto politica e culturale. Noi stiamo in Europa, non stiamo in Europa, ma purtroppo questo qui conta anche poco. Il problema non è tanto stare in Europa, cioè non raggiungere quei parametri per stare decentemente in Europa. Il problema è togliere di mezzo l'idea del parametro e cercare di lavorare in una direzione differente, insomma. Io quando dico che, cioè quando si parla, noi siamo stati condannati anche perché le nostre carceri de fatto, insomma, sono luogo di tortura. Ma l'ha detto persino Giorgio Napolitano, che non è, anche lui, insomma, un estremista, una de sinistra. 144 detenuti ogni 100 posti, significa che è il dato peggiore in Europa dopo la Serbia. Io lo dico durante lo spettacolo, in Germania ce ne stanno 92 ogni 100 posti. Però questo spread non viene considerato ora nessuno. Per cui tutto ruota attorno al... Ma d'altra parte, insomma, ce l'hanno spiegato quasi due secoli fa, è un sistema capitalista, tutto ruota attorno al capitale, tutte le relazioni. Perciò è il dato principale attraverso il quale si considera la crescita, il benessere di un paese, il PIL, che non c'entra niente col benessere personale, insomma, con la relazione che l'individuo ha con l'ambiente, con se stesso, con la propria famiglia, in che maniera vive. Per cui noi consigliamo tutto attraverso il PIL e appunto tutte le relazioni passano attraverso il denaro. E quindi il problema grosso è quello. Poi, che stiamo o non stiamo in Europa, questo qui, è un po' come quando si misurano i polveri sottili, no? Se poi uno alza i parametri e quindi si può circolare in macchina, insomma. Ringraziamo Ascagno Celestini, lo lasciamo andare perché tra pochi minuti inizierà il suo spettacolo Propatria qui al Teatro Verdi. Grazie Ascagno. Grazie a tutti.